Non è possibile risolvere questo problema se non ci concentriamo sulla lotta contro i trafficanti che mettono a ripetare la vita di queste persone regolarmente, costantemente. Dobbiamo evitare questi viaggi, quindi dobbiamo investire nella soluzione legale. È fondamentale, altrimenti non è possibile gestire questo problema. Ci ho detto, ovviamente c'è sempre un obbligo morale e giuridico di salvare persone in mare. La Guardia Costiera italiana ha salvato un grandissimo numero di vite quest'anno. Purtroppo c'è il rischio però che vi siano ancora naufragi e ancora morti se non riusciamo ad evitare questi viaggi e non riusciamo a proporre delle soluzioni illegali che consentano una migliorazione legale. Ultima domanda per Oliver Green. Prego.